Guido Grimaldi, Presidente Alis, per la prima volta siete riusciti a dedicare uno spazio per il sociale all'interno di una realtà differente? Sì, assolutamente, questa idea veramente ci è venuta in mente qualche settimana fa pensando proprio alla possibilità di poter dedicare un intero padiglione al sociale. Io spesso dico che non c'è sostenibilità ambientale ed economica senza quella sociale, quindi è fondamentale poi in un momento così delicato poter dedicare anche contributi e risorse. Noi lo vogliamo fare nel nostro piccolo dedicando anche una parte del ricavato di questa importante fiera sia alle fondazioni e alle associazioni che sono presenti qui oggi come alle donne e bambini ucraini che stanno soffrendo questa terribile guerra. Lo sport come veicolo di inclusione, quindi qui ci saranno partite di calcio, come avete ideato un po' la programmazione per questi giorni? Sì, è stato molto divertente perché effettivamente l'idea era di coniugare il sociale con lo sport e quindi con il rilancio appunto e con proprio quel concetto che quando uno cade si può realzare e si deve realzare. Nel senso che noi proprio qualche istante fa nell'intervista fatta insieme anche al sindaco parlavamo un po' di quello che è successo questo fine settimana dove uno può vincere, poi può cadere ma l'importante è sempre rialzarsi. Quindi lo sport sicuramente come veicolo ma soprattutto come possibilità di poter crescere e quindi questo è sicuramente un veicolo fondamentale e la comunità Lautri ha fatto uno straordinario lavoro per cercare anche, ha creato un vero e proprio campo di calcetto all'interno di questo meraviglioso padiglione dove poi ci sono esposte tutte le eccellenze delle associazioni e delle fondazioni che ne prendono parte quindi direi che meglio di così non potevamo iniziare. Questa volta c'è il campo da calcio, la prossima portiamo anche il campo a ostacoli? Ma magari, quello sicuramente ci sta a Fiera Cavalli che è meglio che è molto più organizzata però magari pensiamoci. Grazie mille. Grazie.